Buongiorno, che bello vederti. Attrettanto. Una giornata bellissima. È vivo sto Edo? Sì. È l'ora che mi torno. Ah, ecco. Però tu metti che ci stanno riparentando. Eh, appunto. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, ciao, ciao. Non so chi è, però mi ha salutato. Eh, è una bella cosa. Già il saluto è una bella cosa. Eh, altro che. Oh, ricordati di maggio poi, di maggio. Quando vogliono andare a Siena. Se andrò. Io il biglietto ce l'ho. Eh. Ma non è detto. Eh, dai. Metti anche questa. Certo. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.